Cosa ne pensa di questa buca signora? Cosa ne devo pensare? Menevrichismo. Ma qualcuno si è fatto vedere qui in zona? Si è fatto vivo? Non nessuno, neanche una pattuglia di vigile. Nessuno, nessuno. E quando piove poi com'è la situazione qui? Insomma quello che vedo. Certo qua però qua c'è il rischio, diciamo, che è molto illuminante. Ci sono le persone di qui sotto che giustamente c'entrano anche l'acqua. In casa? Logico, quelle di più, questi che stanno qua. Lasciamo stare noi perché abbiamo un tipo di appartamento, ma gli altri qua c'è tutto. Anzi, stendo forse fatto sta strada, gli vuol dire che tutta bella, diciamo... Asfaltata? Diciamo asfaltata, voglio non dire un detto siciliano. Ecco va, stiamo quindi che siamo più educati, però non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente.